Veolia e Suez, i due colossi delle energie e dell'ambiente francesi, hanno deposto le armi di battaglia e raggiunto ieri sera un accordo di principio per una fusione. In un comunicato congiunto, i due gruppi hanno spiegato di essersi accordati su un prezzo di 20,50 euro per azione Suez, condizionato al raggiungimento dell'accordo per l'integrazione. Veolia proponeva inizialmente un prezzo di 18 euro per azione, giudicato insufficiente dal concorrente. La nuova Suez formerà un'entità coerente e perenne, con un fatturato di 7 miliardi di euro. Il nuovo gruppo invece diverrà un campione mondiale della trasformazione ecologica e avrà un fatturato di 37 miliardi di euro attraverso l'Opa su Suez, all'interno del quale resteranno tutte le attività strategiche identificate da Veolia. Inoltre, le due parti, e sempre scritto nel comunicato, hanno concordato di concludere degli accordi definitivi di fusione entro il 14 maggio. I titoli di Suez e Veolia sono balzati alla Borsa di Parigi al termine di una lunga battaglia finanziaria, mediatica e giudiziaria. Una battaglia che ha visto in questi mesi in prima linea anche i sindacati. Il timore, infatti, è che la fusione si traduca con il taglio di posti di lavoro.